Ben tornati amici ed amiche di storia per le tre età, tre età della storia, tre età della vita. Al momento il canale si trova in manutenzione e la produzione video è provvisoriamente sospesa. L'intervento è stato reso necessario per poter aggiornare il canale ed acquisire nuovo software più potente, una nuova grafica ed un nuovo programma di montaggio. In futuro questo permetterà, pur conservando i tradizionali contenuti storici del canale, di ottenere video più gradevoli che noi speriamo essere sempre di vostro interesse. Vi diamo quindi appuntamento in autunno quando storia per le tre età ritornerà alla sua consueta programmazione settimanale. Intanto se volete potete vedere qualche video che avete mancato o rivederne qualcuno che è stato di vostro particolare interesse. Un cordiale saluto a tutti!